Quindi le strategie di ricerca nello spazio degli stati verranno valutate in base a questi quattro parametri fondamentali, la completezza, cioè se la strategia è in grado di trovare la soluzione o una soluzione posto che esista, l'ottimalità, se la trova la soluzione, trova la migliore o no, e le complessità nel tempo e nello spazio. Allora, le strategie di ricerca nello spazio di stati, la conoscenza aggiuntiva, la conoscenza uristica per guidare in qualche maniera la ricerca, sono quelle che vedremo in questa unità didattica. Le prime, quelle che invece fanno uso della conoscenza uristica, le vedremo nel modulo didattico successivo. Quali sono quindi le strategie basse, quelle che prescindono dalla ricerca della soluzione, di un percorso all'interno dello spazio degli stati che porti verso la soluzione? Sono cinque. Le due più importanti sono la ricerca in ampiezza, qui al punto 1, e la ricerca in profondità. La ricerca in ampiezza ha una variante, che vedremo nella prossima unità didattica, la ricerca a costo uniforme, la ricerca in profondità ha due varianti, la ricerca a profondità limitata e la ricerca a profondità crescente, e anche queste due le vedremo nella unità didattica successiva. Vediamo quindi adesso in questa unità didattica la differenza fra la ricerca in ampiezza, le differenze fra la ricerca in ampiezza e la ricerca in profondità. In realtà la differenza sarebbe una sola, ma non è una differenza per quanto riguarda le prestazioni. La differenza è una sola e vediamo qual è, in che cosa consiste. Per poter capire la differenza fra la ricerca in ampiezza e la ricerca in profondità andiamo a vedere l'algoritmo generico di ricerca. Qui lo vediamo sotto un'altra nomenclatura, quella che abbiamo definito la lista dei nodi frontiera, qui è definita open list, invece la lista dei nodi visitati è definita closed list. Allora, l'algoritmo in generale è questo qui. Se nella lista frontiera non ci sono nodi, allora usciamo, usciamo per fallimento, non abbiamo più nessun nodo a espandere, non abbiamo trovato il goal, quindi vuol dire che non esiste un percorso dal nodo origine al nodo destinazione. Altrimenti prendiamo il primo nodo in testa a questa lista come candidato per essere espanso. Innanzitutto andiamo a vedere se questo nodo che sta in testa alla lista, frontiera, è uno stato obiettivo, perché in questo caso usciamo per successo restituendo il percorso dal nodo radice fino a questo stato stesso. Se così non è, se non è un nodo obiettivo, allora innanzitutto lo mettiamo nella lista dei nodi visitati, in modo tale che non ci ritorneremo in seguito qualora venga generato come figlio di uno dei nodi nella frontiera. Dopodiché lo espandiamo e prendiamo i figli di questo nodo che abbiamo espanso, cioè applichiamo la funzione successore a questo nodo, andiamo in generale tutti i figli, e questi figli dobbiamo inserire nella lista frontiera, cioè quella qui chiamata l'open list. E qui è la differenza fra ricerca in ampiezza e ricerca in profondità. Perché? Mentre la ricerca in ampiezza inserisce i figli del nodo appena espanso, prelevato dalla testa, nella coda della lista frontiera, la ricerca in profondità inserisce invece, come stiamo per vedere, nella testa. Cioè, se noi andiamo a inserire i nodi nella testa della lista frontiera, e prelevando dalla testa, in pratica rendiamo la lista frontiera uno stack, e la strategia che ne deriva è una strategia in profondità. Se invece andiamo a inserire i nodi appena generati nella coda della frontiera dell'albero, che ricordo sono i nodi foglia dell'albero che si sta espandendo, quindi i nodi foglia dell'albero corrente, e preleviamo dalla testa quello che andiamo a implementare, una strategia di ricerca della soluzione, cioè di generazione degli alberi, in ampiezza. Quindi, guardiamo, focalizziamoci a quello che andiamo a prelevare il nodo più a sinistra dalla lista frontiera, dalla lista, dall'open list. Supponiamo di prendere quello più a sinistra, dopo che abbiamo visto che non è il goal, e generiamo i figli, dopo che abbiamo escluso i figli che fanno parte della lista di visitate, andiamo a mettere i figli di questo nodo nella frontiera. Se li mettiamo a destra, cioè prendiamo dalla sinistra e inseriamo a destra, quella che implementiamo di fatto è una coda, la strategia è una strategia di ricerca in ampiezza. Per esempio abbiamo una successione di alberi che vengono generati, dato un certo spazio degli stati, si partiva dall'albero che aveva il solo nodo A e una lista di visitati vuota, la lista di frontiera aveva A, la lista di visitati vuota, si generano i figli di A e si generano questi stati, quindi l'open list ti prende i figli di A e nella close list ci fa finire A e così via. Qui siamo arrivati al nono passo. Potete fermare la registrazione e vedere se questa serie di passaggi vi ritorna a essere corretta, secondo quello che avete capito, essere la strategia di ricerca in ampiezza. Se facciamo per esempio riferimento all'iterazione 6, in cui abbiamo questi nodi qui nella lista frontiera e questi nodi qui nella lista dei nodi visitati e la volessimo andare a graficare, avremo questa situazione qui. Qui si vede proprio, anche graficamente, come procede la ricerca in ampiezza. Procede sostanzialmente per livelli di profondità crescenti. E se la vogliamo applicare per esempio all'otto puzzle, abbiamo, supponendo di partire da questo stato iniziale, che non è un nodo goal, allora si mette questo nodo nella lista dei visitati, si generano i suoi tre successori, che sono 2, 3 e 4, le tre possibili mosse che possiamo fare a partire dallo stato 1. dopodiché si toglie 2, che è il primo da sinistra, dalla lista dei nodi aperti, della open list, della frontiera, si mette nella lista dei visitati, e si generano i suoi due figli. Due ce n'ha, perché uno porterebbe allo stato da cui proviene, ma che non viene considerato, perché appunto quello stato 1 ha già partito nella lista dei nodi visitati. L'altro è il nodo 5, e quindi viene inserito nella frontiera, ma viene inserito, come da etichetta 5, al quinto posto, cioè dopo 3 e 4, perché viene inserito a destra. Quindi il successivo nodo ad essere espanso sarà il fratello di 2, cioè 3, che generebbe 4 figli, di cui uno è il padre, e quindi non viene generato. Gli altri 3 che vengono generati, cioè 6, 7, 8, vengono inseriti nella lista frontiera dopo il 5, quindi 6, 7, 8, e così via. Per quanto riguarda invece la ricerca in profondità, cosa cambia? Quasi niente in effetti. È tutto, è tutto, 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 l'algoritmo che prende lo stesso algoritmo della ricerca in ampiezza. L'unica cosa è che quando si vanno a inserire i figli del nodo che è stato prelevato dalla testa della frontiera, questi figli si metteranno sempre nella testa della lista frontiera. Con un ordine relativo fra di loro che non è significativo, in tutti i casi comunque sarà una depth first a essere implementata, la lista dei frontieri si comporta di fatto come uno stack. Quindi andiamo a focalizzare lo stesso esempio di prima. Generati questi alberi mediante una strategia in depth first, ancora potete fermare la registrazione e vedere se questa sequenza di passaggi vi torna essere una implementazione corretta della depth first. Cioè ci fermiamo al caso l'interazione 6 in cui abbiamo LFCD nella open list SK e BA nella lista di nodi visitati e andiamo a graficare questa situazione e abbiamo questa situazione qui. Come vedete la ricerca in profondità appunto va in profondità e non va per livelli successivi. È evidente che se avessimo spazi infiniti avremmo qui potuto trovare un ramo di lunghezza infinita e in pratica anzi qui è un ramo di lunghezza infinita di fatto non si sarebbe risaliti da quel ramo di profondità. Dunque adesso andiamo alle valutazioni comparative fra la la ricerca in ampiezza e quella in profondità. Dicevamo i parametri li abbiamo ricordati all'inizio sono la completezza l'ottimalità e le due complessità nello spazio e nel tempo per quanto riguarda la completezza per quanto riguarda la ricerca in ampiezza essa è completa perché se c'è una una soluzione sicuramente la trova a patto che il branching factor sia finito ed è anche ottimale perché effettivamente la prima soluzione che trova è quella che dista meno dalla radice cioè dal nodo di partenza supponendo che tutti gli operatori ovviamente abbiano il costo lo stesso costo cioè il costo della mossa non sia dipendente dalla mossa ma ogni mossa abbia un costo che praticamente lo consideriamo unitario. I punti dolenti della ricerca in ampiezza sono la sua complessità nel tempo che è analoga alla complessità dello spazio cioè sono complessità esponenziali con esponente la profondità della soluzione ottima quella più superficiale più base esponente ovvero il branching factor comunque il concetto è che la complessità è esponenziale per capire la gravità della cosa facciamo due calcoli un branching factor di 10 e la capacità di generare un milione di nodi al secondo con una media di occupazione della RAM di un kilobyte per nodo abbiamo che arriva al sesto livello di profondità della soluzione ottima comunque ce la caviamo perché abbiamo una computazione che dura circa un secondo e un'occupazione di RAM che però è significativa che abbiamo un gigabyte già se abitiamo a dotto profondità dotto abbiamo 103 gigabyte di memoria occupati per tutto l'albero se poi andiamo in doppia cifra fino ad arrivare a 16 abbiamo 350 anni di computazione e una quantità di memoria inimmaginabile quindi di fatto la ricerca in ampiezza non può che essere utilizzata per profondità inferiori a 10 quasi diametralmente opposta la valutazione della strategia di ricerca in profondità perché fatta di la profondità della soluzione più profonda non quella migliore quella ottimale ma quella più profonda perché ovviamente appunto non essendo ottimale la strategia di ricerca in profondità come vedete non è ottimale nel senso che se trova la soluzione non è detto che trovi quella più vicina alla radice non sarebbe neanche completa se avessimo degli spazi degli spazi uno spazio di stati con il numero di nodi infinito non sarebbe completa perché punto potrebbe andare in un rame infinito non ci dovrebbe andare non ci dovrebbe andare a causa di cicli perché abbiamo il controllo dei cicli quindi se è implementato correttamente il controllo dei cicli quindi abbiamo la closed list ben implementata non va in loop in caso di spazi di ricerca finiti e quindi recupererebbe la completezza cioè la death first con il controllo dei cicli e con spazi di ricerca dei spazi di stati finiti è completa per quanto riguarda la complessità nel tempo abbiamo la stessa complessità della ricerca in ampiezza invece il grosso 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 vantaggio e quindi richiamo l'attenzione su questo fatto che è fondamentale il vantaggio veramente significativo della ricerca in profondità è che ha una occupazione della memoria che non solo non è esponenziale ma non è anche polinomiale perché è polinomiale di grado di grado 1 cioè lineare una complessità lineare come mai? perché in memoria vengono tenuti solamente i nodi che fanno parte del percorso che si sta espandendo in quel momento questo è il motivo per cui il prologue ad esempio i meccanismi di risoluzione utilizzano la strategia di ricerca DEF-first ed è il motivo per cui la DEF-first è sostanzialmente più utilizzata se non si ha una conoscenza oristica come strategia di ricerca ecco quindi questo è il grosso vantaggio della DEF-first nella prossima unità didattica andremo a vedere la ricerca a costo uniforme come variante della ricerca in ampiezza nel caso in cui le mosse abbiano un costo non unitare quindi si diversifiano come fra l'altro nel caso dell'Atalanta stradale gli archi sono etichettati e quindi le mosse hanno dei costi diversi a seconda della lunghezza della strada che collega le due città a quel punto introdurremo la strategia di ricerca cosiddetta costo uniforme come variante della ricerca in ampiezza e poi vedremo le due varianti della ricerca in profondità che sono la ricerca a profondità limitata e la ricerca a profondità limitata iterativa cioè a profondità crescente